Rubarono un orologio Patek Philippe del valore di 40.000 euro ad un imprenditore pesarese nell'agosto delle 2020. Oggi sono stati arrestati tre responsabili del furto in una operazione divisa fra Pesaro, Napoli e Roma, portata a compimento in sinergia fra l'arma di Napoli, il RIS di Roma e le stazioni dei carabinieri di Pesaro e Borgo Santa Maria. Gli arrestati sono tre napoletani, due di 43 anni e uno di 33. Uno di questi era già ai domiciliari in quanto indagato per un'analoga rapina di Rolex ai danni della nota giornalista di Mediaset Cesare Buonamici. Questa volta l'orologio di valore razziato fu studiato sull'asse Riccione-Pesaro. Uno dei rapinatori infatti addocchiò l'orologio di lusso al polso dell'imprenditore pesarese durante una cena in un ristorante della città romagnola. Da lì scattò il pedinamento fino al cancello di casa dell'uomo che assieme alla moglie fu aggredito, minacciato e malmenato fino a quando non gli venne strappato l'orologio dal polso. La risposta dell'arma è stata immediata e si è concretizzata in accertamenti sul territorio e in riscontri di laboratorio operati dal RIS su tracce lasciate dai rapinatori sul luogo dell'imboscata. Le indagini hanno permesso di ricostruire il profilo di professionisti del crimine che si muovevano con documenti falsi, schede telefoniche intestate a persone inesistenti e auto noleggiate o esportate verso altri paesi dopo il colpo. I carabinieri sono però riusciti a vagliare tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nel tragitto compiuto dai malviventi. Indagini tali da raccogliere indizi sufficienti per individuare e incriminare i sospettati. Non solo, dopo un sopralluogo sul luogo dell'aggressione, i carabinieri erano riusciti a ritrovare tra i cespugli anche un braccialetto e un cappellino indossati da uno dei rapinatori. Dopodiché gli accertamenti eseguiti dalla Sozione Biologia del RIS di Roma confermarono pure la corrispondenza del profilo genetico di uno degli indagati con quello ritrovato nel cappellino in questione.